Non devi andare sulla luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin365.news Io personalmente non conosco Skinny, per ignoranza mia, perché lui non si è conosciuto anzi, noto che è molto ma molto popolare e acclamato sia su YouTube che su Spotify. Molto giovane, in uscita con un EP e insomma mi sembra una giovane promessa a quanto ho capito. Cioè quando lanci un freestyle per annunciare l'EP e finisci in tendenza. Cioè ragazzi non è che i numeri sono solo i milioni, i miliardi e comunque sei una giovane promessa solo quando vieni lanciato. Insomma questo ragazzo qui ha un bel background, un bel po' di persone che lo seguono. E allora dico vabbè, clicco, ascolto, lo voglio sentire. Prima cosa che mi colpisce è la base, non ci crederete mai, ma questa è una strumentale, non so se l'ha rifatta o la ripresa papale papale, ma c'era questa strumentale che girava nei vecchi canali di Beatmaker, ma vi parlo vecchi a scuola. Tanto che nel 2015 io ci feci un freestyle su questa base, gente guasta con un mio amico e facendo un freestyle, me lo scorderò mai, bellissimo. Quindi sono molto legato a questa base, quindi a maggior ragione quando l'ho sentito ho fatto, ah bomba. E devo dire che il ragazzo a livello di stile l'affronta bene, la base fa il suo ed è forte, lui è molto forte. Ora quello che mi ha portato un po' a riflettere è, ma può essere che oggi come oggi quando anche un ragazzo talentuoso a livello stilistico deve fare un freestyle, il freestyle per osannarsi deve riprendere tutti i classici luoghi comuni, poi tra l'altro in un video così dove c'è lui al microfono in home studio è necessario mettere quattro culi così, a me mi sembra un po' forzato, mi sembra un copiare un luogo comune, tutto qua non è che è un problema ai culi, non sono un problema affatto, non sono mai un problema ai culi, tutt'altro. Il discorso è che l'artista che deve sempre riproporre il solito format già fuori moda, insomma, non lo so, non mi ha convinto la twerkata in primis, perché appunto sei un giovane di talento prossimo all'uscita, perché devi mostrarti come se fossi parte di tutti gli altri? Perché chiaro dici ok ce l'hanno tutti, se non lo metto non sono forte, no non è così, Chaos One non ha mai messo un culo in vita sua in un video, però comunque è Chaos One. Dici che c'entra Chaos One col mondo moderno, cazzo, per me nel rap il numero uno è lui, tutto qua. Poi uno dice dobbiamo fare un freestyle, no stilisticamente ce l'hai, segui bene la botta, hai una buona metrica, perché devi dire le solite quattro cose di luoghi comuni totali proprio, che uno dice cavolo lo sto dicendo, lo dico, lo faccio, ma non è che non sei credibile perché quello che dici non è veritiero, è che siccome lo dicono tutti, no, e il freestyle è questo, il freestyle è omaggiare se stessi, no, e ci sta, ok però, cioè un freestyle di Amy Schilla, Amy Schilla ha fatto sempre freestyle al di là del freestyle improvvisato, parlo di strofe in esercizio di stile, ma anche un lazza, cioè loro si distinguono perché oltre anche ai soliti luoghi comuni, che comunque ci hanno ammollato col tempo, Amy Schilla è uno che li ha creati, i luoghi comuni, comunque sono persone che ti mettono, ti usano un'ironia, ti usano un modo di fare, che è esagerato, è esasperato, ma è figo e si capisce che stai al gioco. L'arena dell'esercizio di stile, dell'immaginario diventa credibile perché se tu mi puoi dire qualunque cosa, se tu mi puoi dire anche io, apro le mani e prendo il volo, ok, se mi fai capire che l'arena è l'assurdo, tu puoi dire qualunque cosa, ma in questa tipologia di arena, rap game, la parola arena ragazzi nel gergo cinematografico si usa per dire l'ambiente in cui è strutturata la storia, quindi utilizzo questa parola per parlare un po' di questo fatto, e nel momento in cui tu mi dici le solite quattro cose che dicono tutti, mi perdi di credibilità, ma non perché non sei credibile, perché mi stai ripetendo un copione, tutto qua. Quindi quello che voglio dire a Skinny è, ce l'hai, sei forte, distinguiti dalla merda, ricapati dalla melma, questo è, perché non serve, quello che piace ai ragazzini e ai cazzi vari, cioè oggi secondo me sfonderà, farà successo non quello che seguirà, ma quello che nuovamente cambierà, cambierà le regole, sono diventato cinese, cambialà, che cambierà le regole, questo, la persona che finalmente, perché ce n'è bisogno, ce n'è bisogno di cambiare le regole ragazzi, siamo stanchi, siamo stufici, ci stiamo molto, ma molto annoiando.